ciao a tutti bentornati su top gamer italia siamo sempre con gosto tsushima e stiamo facendo una delle missioni finali o buone notizie una delle missioni finali del gioco dopo i preparativi vediamo un po' ecco lo puoi andare a rubare gli hoci non so come si pronuncia però i bombardamenti i cosi che bombardano i missili accompagna bella il cuore del giito ah già fatto ah io lo devi portare ancora bravo guardatemi un cavallo decente sono scocciato e non è in giro col brocco no ma Grazie. entra nel castello shimura da nord posso entrare da qua questo che è vediamo un po che succede adesso però devo fare una cosa quindi devo andare per forza dall'altro lato andiamo un po un posto più vicino croceria di kubara proprio vicino kaze ah dove stai vediamo la strada e vediamo che succede beh siamo arrivati che bello ah è un flashback un po' ... Voi ci sono i tuoi passaggi di questo passaggio Voi viveremo con voi C'è quello che c'è? c'è qualcuno giù c'è uno che pesca c'è uno che pesca ... ... ... ... ... ... ok allora prima di andare avanti facciamo una bella cosa mettiamo tutta la roba stelta che abbiamo attraverso 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 la roba stelta che abbiamo t faudra Credo la sinistra per forza, no? I should wear Check it out Non, ma c'è un'escrita che si tratta di un'escrita. Non lo so, non lo so. Sì, sì, sì. ci sono riuscito incredibile c'era una corda qua che cazzo di giro ston facendo cazzo di giro ston facendo cazzo di giro cazzo di giro non so come ho fatto però va bene cazzo di giro 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 finito il discorso cazzo di giro C'è un po' di panampa qua. C'è un po' di più. 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 C'è un po' di più.